no basta hello everybody ciao a tutti e a tutte io sono Sussi e questo è un nuovo video oggi ho deciso di fare i tipi di tra molti molto 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 video cioè tra molte specie video cioè tipi di ho scelto di fare i tipi di insegnanti allora iniziamo subito primo tipo quel tipo di professore che stiamo parlando di professore quel professore che suona la campanella della sua ora e lui fa come se fosse ancora la sua quindi ragazzi ragazzi ho detto che la lezione è finita vi sembra che ho detto che la lezione è finita e noi prof mi ha suonato la campanella si ma ancora non ho dati i compiti tipo mezz'ora dopo poi viene l'altro insegnante si ma io ti stavo aspettando per dare il cambio e lei tipo oh e vabbè quel professore che invade l'ora fa come se fosse a casa sua il secondo tipo di insegnante è l'insegnante e comprensibile che noi tutti amiamo comunque quella persona che va bene non vuoi studiare ok basta che stai in silenzio va bene usa il telefono va bene basta che non disturbi la classe ok potete fare quello che volete però basta che non disturbate la classe prof mi posso studiare con tizia sia anche con caio tutti in gruppo non dice niente niente e il terzo tipo di insegnante è quella persona che deve urlare ovviamente e quindi tipo tu sei perché perché il mio timpano perché il quarto tipo di insegnante il quarto tipo di insegnante è quello che non sente cioè è puramente sordo puramente è sordo su una campanella ma è sonata ragazzi ma è ricreazione ma questo lo spiega è sordo questo tipo un altro tipo è quello si non so come lo definireste però tipo è questo quello che fa si ma aspettate la professoressa sta arrivando e ripassate che sto interrogando ripassate che interrogo ripassate che interrogo ripassate poi non interroga mi sembra giusto e niente questi erano i primi cinque professori che io ho scelto di dirvi in questo video e niente spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi qui sotto in un commento i professori che avete incontrato voi che vabbè lasciatemi tutti 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 i sit e il pollice in su mi raccomando e iscrivetevi al canale al canale condividete e ci vediamo al prossimo video